Salve a tutti i colleghi, allora oggi vi faccio un brevissimo tutorial che vi spiega come creare attestati in automatico molti mi chiedono ma per il DM65, lato studenti, come facciamo visto che la funzione per generare gli attestati non è ancora attiva magari lo sarà, non lo sappiamo, però credo sia sempre buono imparare questi nuovi trucchetti è una sorta di stampa unione ma lo facciamo in ambiente Google, vediamo subito allora, il primo passo è quello di creare un modello di attestato su Google Presentazioni, Google Slides io mi sono creato una bella cartella e ho fatto nuovo, Presentazioni Google adesso lo chiamo Attestato 2 perché l'ho già creato, quindi useremo quell'altro che ho già creato e gli vado a togliere le caselle di testo, perché gli vado a togliere le caselle di testo? perché ovviamente potrei usare uno dei modelli che vedete qui, ma mi serve un modello di attestato quindi un piccolo trucchetto dove lo vado a prendere, me ne vado su Canva sicuramente conoscete Canva, che ha una versione gratuita per docenti, e tra l'altro informatevi scrivete attestato qui e scegliete quello che vi piace via ad esempio ho preso questo, ho cliccato, ho fatto Personalize questo modello eccolo qua consiglio, magari se volete qui mettere il nome e cognome del dirigente potete lasciare il dirigente, tutto il resto toglietelo ok? e una volta che avete il vostro modello pulito, andate su Condividi scarica, e lo scaricate in PNG ok? così sarà nella vostra cartella Download adesso torniamo nel nostro Google Presentazioni clicchiamo su Sfondo Scegli Immagine Sfoglia e ci andiamo a caricare l'attestato scaricato da gamba eccolo qua ok? cosa dobbiamo fare adesso? ovviamente lo dobbiamo personalizzare e quindi andremo ad aggiungere delle caselline di testo ok? quindi per esempio AS202324 nome della scuola ICRDELI ma non ti tolleranno una scuola un giorno? non credo comunque fatto tutto quello che dobbiamo fare quindi il nome e cognome se volete il nome del dirigente una firmolografa poi decidete col dirigente come fare dovreste ottenere una cosa del genere io per esempio qua ho messo la data ma è possibile mettere anche il nome del dirigente attenzione al nome e cognome dal momento che dobbiamo produrre questi attestati in massa dovremo mettere questi placeholder virgoletta virgoletta nome chiuse virgolette quindi due virgolette basse spazio virgoletta virgoletta cognome chiuse virgolette adesso vi spiego perché perché il componente aggiuntivo che andremo ad attualizzare ha bisogno di questi placeholder quindi anche per la data in realtà potremmo mettere virgoletta virgoletta data per tutti quei campi che dobbiamo cambiare io qua ho messo il nome del corso potenzialmente se dobbiamo creare attestati per più corsi anche il nome del corso potrebbe essere inserito tra virgolette una volta fatto ciò ce ne torniamo alla nostra cartella e ci andiamo a creare un foglio google eccolo qua io l'ho già fatto con tutte le cose tutti i dati che ci servono per il nostro attestato lo chiamiamo nome cognome email e andiamo a mettere i nostri dati ho messo tre nomi di studenti della mia console studenti che realmente frequentano la mia scuola per questo sono così bravi ok messi gli studenti che cosa dobbiamo fare dobbiamo installare autocrat basta cercarlo su google e ci porterà al google workspace marketplace quindi siamo in ambiente google workspace per fare questa cosa ora io l'ho già installato quindi mi appare il tasto disinstalla che in realtà non posso fare devo andare da console a voi apparirà il tasto installa attenzione se il tasto install dovesse essere limitato grigio vuol dire che l'amministratore ha bloccato quest'app per l'unità organizzativa dei docenti quindi chiamate il vostro amministratore google workspace e ve la fate sbloccare una volta cliccato installa automaticamente nella sezione estensioni troverete autocrat fate un bel launch la prima volta vi chiede di autorizzarlo ok continua consenti ovviamente non abbiamo ancora dei lavori quindi andiamo a cliccare su new job i lavori che andiamo a creare sono specifici di questo foglio google quindi se abbiamo altri fogli in cui abbiamo già usato autocrat li troveremo soltanto in quel foglio lì i lavori creazione attestati dm65 studenti quindi diamo un nome andiamo su next e adesso ci chiede di scegliere un template andiamo clicchiamo su from drive vediamo che il nome del nostro template è attestato corso autocrat eccolo qua vediamo il tempo ecco adesso ce l'ha quindi andiamo su next e ci dice quali dati dobbiamo utilizzare allora innanzitutto scegliamo il foglio che sarà il foglio 1 diamo un attimo di tempo e adesso ci dice vedete in automatico che nome che sta in attestato quindi per questo ci vuole il praiseholder si mapperà alla colonna nome ecco perché è importante chiamare le colonne nello stesso modo in cui le avete messe nell'attestato la colonna cognome scusate il praiseholder cognome si mapperà alla colonna cognome eccolo qua perfetto era quello che volevamo andiamo su next ora possiamo dare un nome al file per chi genererà un file io in questo caso cliccando sulla freccetta mi vado a prendere nome o prima il cognome se preferite spazio cognome trattino attestato attestato corso robotica quello che volete ok quindi anche nel nome del file i placeholder si personalizzeranno personalizzeranno il nome del file come lo facciamo lo facciamo in pdf non in google slide andiamo avanti dove li vogliamo mettere già mi suggerisce la cartella perché è la stessa cartella in cui c'è il modello quindi per me va bene posso andare avanti altrimenti ne posso uscire un altro posso andare avanti questo lo salto il punto 6 salto pure il punto 7 vuoi condividere il documento? se volete anche inviare i documenti automaticamente allora fate sì se invece preferite avere questi attestati semplicemente nella cartella che avete scelto per poi stamparli e darli voi agli studenti allora qua avete finito però vi faccio vedere anche questo punto che può essere interessante e vi spiega perché ho messo anche la colonna email quindi share doc facciamo sì come pdf va bene non serve che venga ricondiviso potete anche scegliere se mandarli da un no reply a address fatto no in questo caso a chi dobbiamo mandarlo ecco qua interessante ci possiamo usare i tag quindi io vado qua prendo il tag email lo vado ad incollare ognuno riceverà il suo attestato vediamo possiamo anche mettere un oggetto anche qui stesso discorso potremmo mettere il nome tag spazio cognome tag attestato corso robotica e qua mettere un messaggio caro studente allegato il tuo attestato bla 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 il dirigente scolastico maestro io vado non so chi sia il vostro dirigente scolastico ma questo va bene per tutti ok andiamo avanti next qua non ci serve quindi possiamo a questo punto cliccare save abbiamo finito ok perfetto una volta fatto possiamo rivederlo modificarlo se non ci piace ma se siamo sicuri ci basterà cliccare run job quindi il tastino play in automatico vedrete che si popoleranno le colonne del nostro file eccolo lì che cosa sta succedendo innanzitutto sta creando gli attestati li sta mettendo nella cartella che noi abbiamo scelto e poi li sta anche inviando agli studenti adesso gli dobbiamo dare qualche secondo ok è finito ovviamente erano solo tre quindi ci ha messo poco come vedete noi da qui possiamo anche andarci a vedere i documenti vedete Anakin Skywalker se clicchiamo su questo di Antonio De Curtis ci sarà scritto Antonio De Curtis e su quest'altro di Marie Curie ci sarà scritto Marie Curie ok perfetto ma non solo se noi adesso ce ne andiamo nella nostra email tra gli inviati ecco qua vedete Kia non soltanto gli attestati sono stati prodotti ma sono stati anche inviati all'indirizzo che avevamo indicato nel file vediamo se è giusto è tutto giusto perfetto difficile? no non credo ripeto magari la funzione si sbloccherà e gli attestati saranno prodotti in automatico lo speriamo però credo che sia interessante anche per altri progetti imparare a farlo per conto nostro spero sia stato utile al prossimo tutorial ciao